Voi conoscete la fede di Satana? La fede di Satana si chiama dubbio, il dubbio. Per questo noi possiamo vedere dall'inizio della creazione, Satana arriva all'essere umano e gli dice, è vero che se voi mangiate. Da veramente è vero? Cosa ha fatto Satana? Ha seminato il dubbio. Gesù ha combattuto il dubbio. Quando lui ci dice, si avveste fede e non dubitaste. Quindi per combattere il dubbio, nella nostra mentalità, la fede è come se combatte, se lotta contro il dubbio. Quindi credere contro il dubbio. Per questo è molto importante far credere, crescere, la fede. E come se cresce la fede? Paolo scrive e dice, la fede viene per l'ascoltare. Ascoltare cosa? La televisione, il giornale, la gente, il nostro pensiero. Satana no. Ascoltando la parola di Dio. Quindi la Bibbia deve essere quello che noi vogliamo ascoltare. Io per dire non credo a un presidente del consiglio che ha fatto la troica in Grecia e che bambini per mancanza di latte hanno morto. Questo me lo diceva un signore, quella rufina l'altro giorno, che io vorrei confermare questa storia. Il dubbio è la fede di Satana. Io posso essere un vincitore contro la fede di Satana perché? Perché io ho fede. Qualunque cosa che io prego d'accordo alla volontà di Dio, se io la dico, posso rimuovere una montagna al mare. Ma vi rendete conto il potere che Gesù ci ha dato? Voi, io, abbiamo un grandissimo, potentissimo potere, una grande forza. E dove l'abbiamo? Tranne la fede, tranne la parola, tranne la certezza, la conviczione della volontà di Dio di dire, profetizzare, dichiarare, confessare. Come quel video che vi ho fatto dove ci sono 33 parole diverse per dire le cose? Credendo possiamo fare la montagna, metterla giù al fondo del mare. Quindi dobbiamo essere attenti perché sempre Satana semina il dubbio e io lo devo combattere con lo scudo della fede. Con la fede. Ciao, Kari.